Musica Salve a tutti, sono Zombie Veste e sono qui con Steel Tambu fra MTK e Mazzy 95 Perché MTK? Vabbè, Mazzy 95 Su una sopravvivenza di Black Ops 2 Zombies in città Siamo al round del 34, siamo partiti dal 20, ci siamo un po' tirati su punti, armi Siamo tutti messi in una buonissima situazione, a parte una persona Che non nomino, ma vi lascio guardare la classifica Che non è Mazzy, si potrebbe pensare che lui deve essere andato a terra, ma non è lui E' la lava, è la roba E' la lava, succede Ok Io non avrò capito cosa andavamo per vivere Un cecchino figo, ok Vabbè Comunque, veramente, diciamo che arrivare al 34 è stata lunga Soprattutto il 33 è stato infinito fisicamente, veramente Il 32 Hai anche il 32, tutti i round fino a questo sono stati infiniti Dal 27 in poi hanno iniziato ad essere infiniti Invece adesso, ok, vai Oh, punizioni Alt Adesso invece saremo al round 35 Aspetta, 35 A round 35 Su città, 4 Vai Perché hai lanciato la scimmia? Ok, cazzeggio Tanto ce ne ho 3 Ho sbagliato! No, vabbè, l'ho lanciato pure io per sbagliare Vabbè, ottimo Come spreccare le scimmie? Come spreccare le scimmie? Bene, siamo al 35 Siamo così, siamo così confidenti che sprecchiamo anche le scimmie Eh, beh, è talmente facile, è talmente facile che Poi ci vuole, diciamo, l'obbligo di avere un MP5 perché qui i colpi finiscono subito Quindi l'MP5 è quasi d'obbligo Non è vero Non l'ho mai comprato Comunque Bugiardo, bugiardo Comunque io sono morto per far fare il record di... Ah, sei giusto, tamburo Io sono morto per far fare il record di revitalizzazioni, cioè Esatto, sono a 69, punto alle 100 per la fine del video Minimo 100, quindi Solo per quel motivo Quindi aspettiamo Dai, poi magari metto un montaggio delle mie morti sul mio canale Perfetto No, io faccio un montaggio delle morti Delle morti Dopo 4 o 5 ore No, io lo faccio, lo faccio Va bene Ok, ok Quanto saremo in partita, più o meno? Due orette Da, fa tre, tre ore almeno Tre oretti Tre Partendo dal 20, eh, partendo dal 20 Poi con l'MP5 diventano ancora più lunghe round Con le armi che abbiamo Non abbiamo tutti la Reagan No, dombe, veder Veder ancora una volta che devo essere io quello che ne ho a terra meno volte Siamo pari, non va bene Siamo pari, non va bene Siamo pari, non va bene Siamo pari a terra E vedremo chi dei due vincerà la sfida Ma tanto per me vinco io Perché adesso andate tutti e due a terra E io no C'è un'ista, c'è un'ista, c'è un'ista Mi sacrifico per prendermi Bella Ottimo Mamma mia Ammazzate a caso Ah, però così non va bene Bella Bombola conistan Non va bene Come non va bene? No, doveva uscire o prima o dopo Va bene, dai Io invece sto quello tranquillo così Stanno entrando talmente velocemente che non importa se è il primo o due Quando in tempo rientra lo stesso Sì, sì, sì Che è infatti Qua sì, è una cosa È da un po' che non ho andato a terra però Da inizio round Anzi no, dal round precedente Bene Ecco, hai parlato Perché parlite? Ho andato a terra due volte No, sto rosso Mi cambia le armi da sole Io ho risolto un problema che avevo con la tastiera edibilitando il touchpad Un problema che la tastiera andava da sola e morivo Quindi sono andato anche due volte a terra per colpa della tastiera Uno o due Quindi, vabbè Questi sono gli italiani Sì, 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 beh, dai Sì, vero Almeno voglio dare un po' di supporto Un supporto morale Abbiamo in tre Tutti che dicono la scusa, il lag Uh, sono quasi 100.000 bussi Ho potentiato un'arma, il telefono suona Spero che non sentiate il telefono che suona No Oh, non è... Eh, però non è suonato neanche una volta il telefono di... Eh, sì, sto so Quello è il telefono più bello del mondo Io sto arrivando a mille No, dai, a 7.000 quasi Mi fermerò sulle 100.000 giuste ma devo prendere le munizioni, quindi ci vorrà un po' di tempo Per lo meno Me la cavicchio, dai Non so, non so niente, tu gli puoi sparare quello che vuoi Era rosso così a caso Aspettiamo un attimo Mi ripristino la salute Comunque questo round sarà molto lungo, eh No, no, 100.000 30 Compro le munizioni così torno giù di nuovo Ok, bene Arriva 100.500 giuste No, adesso arriva a 100.000 esatti Quello Ok, il DSR non ammazza più in un colpo Eh, lo ho sperimentato anch'io Sì, sì, cazzo Sì, che bello È un numero tanto da hacker quello Perché quando tutti i 7 punti solitamente vanno sempre sul 100.000 10.000 Sempre 1.000 Adesso modifichiamo la scuola Adesso ti banna il back Esatto Guarda che arriva il back Adesso mi banna di nuovo il back su questo account Allora sì Ah, dai, speriamo di no Pezzi di merda Le sarebbero capaci, eh Eh, anche secondo me Devo prendere colpi Chi è che si sta più andando a far cassa a questo round? Chi ho? Ah, indovina Va bene Chi è l'unico che ha voglia di stare lì? Io ho detto che non aprivo più la Che non prendevo la MP5 Ti fai cassa, usi l'arma e poi te la ricambi Giusto? Mi sembrava una ottima pratica Faccio cassa, uso l'arma, paga pancio Paga pancio, poi fisco le munizioni e la cambio E riesce a stare sui 12.000 punti, buono A parte che mi è andata un po' bene Cioè, mi sono sempre guidate armi automatici Fino adesso, il primo colpo Però vabbè Tra cui due volte l'hambra e una volta l'rpd Però vabbè Prima Mazze aveva anche i coltellini balistici potenziati Quindi ci rianimava subito Invece adesso ci è andato a terra Non siamo riusciti a rianimarlo E non tocca a me fare il lavoro di rianimatore Sennò sarei già 70 Uh, sono già 70 rianimazioni Allora sarei già 80 rianimazioni Nel caso Mazze Non avesse preso quel coltellino balistico Si sacrifica lui per la sua era Sì, io sono sicuramente un po' di volte Eh sì, io sono sicuramente un po' di volte Se riesce a stare in vita, sta in vita Tranquillo Sicuramente da un po' che non mori bene Grazie, grazie Sono morto due volte io, sai Vabbè Deci gole Ah Io divento rosso per niente, ho notato E questo potrebbe causare un problema No, 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 no Cioè, tra l'altro No, ecco, ho fatto apposta Che gliel'hai detto? La condizione di zombie è partita a caso Ah sì Tipo segnava condizione introdotta a tutte le parti Impossibile star fermi Ma secondo me ricapita Tipo tra dieci secondi Siamo ancora a pari con le volte a terra, fra Eh, appunto, è terra Se volete vi aiuto io a far cadere No, no, non serve Mozi è ancora sotto di me Mozi è ancora sotto di me con le kill Mozi è ancora sotto di me Oh, se te ti piace tanto E' tutt'ambù? Vabbè No, ma questa qua è proprio una cosa che ci sto male Ci sto troppo male Dunque questa è una mappa abbastanza semplice Il problema è appunto che fisicamente è lunga E che non finisco Ecco Oh, oh, oh Fisicamente è lunghetta Come mappa è questa E' estenuante Ma dai, non mi rianimare così No, dai Cioè, aspetta Che adesso mi richiudono Eccolo E vabbè Già mi hanno richiuso Non so come ho fatto a passare Arriva prima a 100 Per teletrasporto Lo fa solo per quello lui Eh, lo so, però Lui dice che non è vero Ma è verissimo Però è che Se lui ti rianima E poi te avetterla subito Per lui è visio Non è che Ah Mood Non è che Perché lo rianimo di nuovo Mi faccio quei pochi punti Che mi servono E poi E poi arrivo al prima 100 Ti rendi conto Zombie renditi conto I tuoi morti Sono il contrario Delle mie morti Se gli metti i numeri 16 e 61 Anche quelli di fra Eh, io sono quello diverso E vai Adesso devi morire 26 volte E tu devi rimanere in vita Finché lui muore 26 Eh, vabbè Ma che cazzo Mi ha fatto apposta Ah, ah Lug, lag Lug, sì, lag E vai 36 Una 46 Oh, fermo, no Devo fare così Scusa un secondo Se no No, ma hai capito Che voglio farti arrivare 71 volte a terra Così quando io andrò a terra La 17esima volta Saremo di nuovo Pari E' questo che voglio fare Ah, ok Ah, visto Devi capire le cose Ok, sta arrivando Tambù Dai, io ti proteggo col coltello Bello Guarda Protezione gold Premium Ah Buona Comunque il round non sarà nemmeno un quarto Fammi andare giù per favore Grazie No No Sai cos'è che non è possibile Sai cos'è che dove ammettere? Ma dove è la cassa? Tipo Secondo me dove ammettere tipo in basso Tipo Numero di zombie totali Numero di zombie ancora da uccellare No, no, no La cassa dov'è? Oh, la cassa dov'è? Ma la cassa dov'è? Eeeh Oh, ho failato Che cazzo è la cassa? Ho failato Non ti hai rianimato? Ho failato E dove c'è la boot up? Io non devo failare così No, non c'è lì E' qua dove c'è Si, è qua E' qua E' qua No, non c'è più il fascio Non c'è la luce Non c'è la luce Non c'è la luce E' perchè è una Si è pagata la luce E' eccellente Beh, io lo vedo L'ho aperta troppe volte Eeeh Hai visto? E' fatto talmente bene Black Ops 2 Che culo Ah, son rosso Son rosso, via Un piccolo bug Sto correndo Nulla di importante No No, perché se scomparisse Davvero Aria Eh, questo si Vabbè, io sono a posto con le armi Non devo comprare ulteriori armi Tanto noi ci divertiamo A giocare con le mp5 Ma si è bellissimo con le mp5 Fai punti Quindi Già 120.000 Adesso mi ferma a 120.000 giusto Giusto, cioè Fermo No, cazzo Ah, ah Aspetta, scompro le munizioni Non preoccuparti Io mi diverto a fermarmi Giusto con i punti Mi diverto un casino Mi convince troppo la cosa Ma beh No Anch'io mi diverto Ok, ti rianimerò con 120.000 punti Se no niente Eh, colpisci uno zombie due volte Ecco 120.000 punti signore e signore 120.000 punti Altra somma, altra cifra da hacker Adesso Lo rianimo Vediamo quanti punti 66 cadute signori Cazzo, 580 punti per tirarti su Che bella la vita Quanti gliene ha tolti Eh, gliene ha tolti 580 Sono quasi 80 rinimazioni Brava Da quando ho iniziato il video Non sono ancora andato a terra Ciò è molto strano Da quando ho iniziato il video Da quando ho iniziato il video Sono caduto a terra 9 volte Ok, ho tante rinimazioni Mancano solo 20 Signorina Una coca, grazie Io me lo sento Mi suicido adesso Sono rosso Dai, dai Con calma Dai, ricalza Vite? Ok, ricalza Sì Adesso sono tutte le 6 Io alle 7 non andrò lì Io alle 6 e mezzo 7 e mezzo 7 e mezzo Quindi, io te l'ho detto già prima Quando eravamo al 20 Sì, sì, sì Sennò al limite Devo mangiare di tefra Se la gente se ne va Che forse è anche meglio Forse riesco No, no, no State qua State qua Il più possibile Che Già il casino in quattro No, ma no Arriva l'ottunesima Arriva l'ottunesima Oh, cosa Mi sta ingroppando Sto Oh, è vero Eh, era lì Che saltava Ti fai qualche idea strana Eh, mazi Io non parlo Perché sono talmente Umiliato Che mi vergogno Tra poco anch'io Mi sento proprio un Devo non preoccuparti, dai No, mi piaceva avere Io lo dico sempre 69 69 Non si contano mai le volte Che una persona va a terra Ma il round raggiunto Bene Dopo questi Questi Consigli Che perla Queste perle Di saggezza Ecco Ecco Non so se ridere o piangere Sono indeciso Ho finito il DSL Dai ridi Sempre meglio ridere Che piangere Non contano le volte a terra Oltre piangere dalle risate Ricordate Sì ma conta Quanto sei stato in piedi Rispetto Ma che cazzo Quelle sono ideologie personali Prendo il cecchino Almeno Faccio un trick Oh, l'ho beccato Incredibile No No Cos'è successo Sulle scale Ci siamo Sui trick Non è che Lui fa i trick Ma muore Poi dopo Quello è più buono Ti trick e sciotte Te Ti trick e te sciotte Eh Gli ha fatto il nascotto Gli ha levato le gambe Eh ma Mi revitalizza nel mucchio Perché si diverte È vero Fa sempre così Lui dice Ti faccio cerchiare Dal mucchio di zombie Ma poi che non muore mai Oh Guarda che ti sembrano al vacca Non farlo Siamo il vacca Siamo il vacca Siamo il vacca Siamo pronti Siamo pronti Signor vacca Siamo che mi sa che questo qua Signor vacca Mi sa che Qualcosa di legale lo sta facendo Eh Eh Mai Ricordate Eh ma io gli passo Io gli passo il montaggio con le mie morti Ricordate Io gli passo quello che mi piace Chiamano al montaggio Eh Come lo posso chiamare il montaggio Non è facile Il vacca cagare Il mo Il morto tra i non morti Cosa Aiuto Il morto Il morto tra i non morti Ah il morto tra i non morti Però anche il morso dei non morti è convinto No Avevano in seguito Cioè No Trocchiamo cadere E poi rialzarsi Si cade Si cade solo per rialzarsi E' per il lungo come titolo Però cambio nome Ma tutto tipo zombie best al posto di Stil tambu Eh bravo Lo chiamo quello che non sapete di zombie best Che ha fatto 88 reanimazioni Eh è un diverso di animare Sono uno che pensa al team io Non uno che pensa a se stesso Ah io ne ho uno che pensa alla reanimazione Sì sì ho uno che pensa ai reanimazioni Oh è che il Oh Oh L'XM8 come cavolo si chiama Le M8A1 Che cavolo è Non lo so E' forte potenziato Comunque penso che sia un'arte Nessuno riesce a cadere così tante volte L'arte del cadere Oh voglio arrivare a 100 E' una dot naturale Continua Ancora 11 manca poco Va bene va bene Arriverà a 100 Lo scoprirete nella prossima puntata